In più noi prendiamo anche e percepiamo le sequenze numeriche della costellazione Ophiucho sempre sulla piccola lente del dispositivo. Vediamo come tutte le sequenze numeriche si illuminano con la luce di colore bianco argenteo. In più percepiamo poi tutte le sequenze numeriche anche sulla grande lente interiore all'interno del dispositivo. In più poi percepiamo sempre le stesse sequenze numeriche nella luce bianco argentea lì dove c'è il campo elettromagnetico dell'espositivo. Così abbiamo stabilito il nostro pilotaggio con le sequenze numeriche sulla grande lente interiore all'interno del dispositivo, nel campo elettromagnetico del dispositivo e anche sulla piccola lente. in cui noi abbiamo il nostro pilotaggio verso il più infinito. Ogni numero ha il punto più vicino a questo numero e quindi il punto più vicino a ogni numero è il punto della creazione di questo numero dal creatore. Quando noi vediamo dalla piccola lente il punto infinitamente remoto, questo in realtà è il punto della creazione. E allora risulta che questo è il punto della creazione dell'intero mondo, di ogni numero e anche della costellazione Ophiucho. E noi concentriamoci su questo punto e concentrandoci vediamo come il bagliore di questo punto appare contemporaneamente anche in altre due lenti. E ora ci concentriamoci su questo punto. E ora ci concentriamo sulle due lenti grandi. E quando ci concentriamo vediamo che tra i centri tra le due lenti grandi appare il bagliore dinamico. E può avere il colore bianco argenteo oppure può avere anche diverse tonalità. E questo punto è il punto di vista tra i centri tra i centri due grandi. E questo è il bagliore che ha trovato i centri tra le due lenti grandi. E questo è il pilota e la soluzione in realtà che il dispositivo ha trovato per il nostro obiettivo. E questa soluzione si applica a ogni essere umano, a ogni essere vivente. E quindi siccome noi applichiamo anche il polo della nostra soluzione, la nostra norma personale, allora il dispositivo ci mostra come noi dal polo della norma dal dicembre 2024 diffondiamo questa norma nel presente e come quindi rendiamo felice anche il presente. E in questo bagliore si apre anche un'altra immagine, si apre anche di nuovo il polo della norma e vedete di nuovo voi stessi nella norma assoluta. Lo vedete tra i centri di due lenti grandi. E da questo polo della vostra norma personale arriverà il braccio che entrerà nel centro della piccola lente. Noi sappiamo già che questo è il punto della creazione del mondo. E noi da quel punto di nuovo creiamo la realtà del nostro obiettivo di plutaggio che tutti i paesi del mondo si riuniscono per fermare il patto sulla soluzione pacifica dei conflitti. Delle neutralizzazioni. Oppure che si riuniscono anche per neutralizzare qualsiasi tipo d'arma. per eliminare le cause dell'utilizzo delle armi. per lo solupo eterno felice edificante di ogni essere umano. E quindi noi così creiamo questa realtà, sviluppiamo questa realtà, la diffondiamo considerando il fatto che questa realtà è stata già creata. In più cercate di concentrarvi chiaramente sulla vostra norma personale. quindi c'è la vostra norma personale, prima di tutto, assoluta, che attiene l'intero mondo in questo stato di sviluppo. Allora 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 Allora